BELLA A TUTTI RAGAZZI 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 IL GOMBI SfETTI RAGAZZI N Rs6 BELLA A TUTTIDI BELLA 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 A TUTTI RAGAZZI I PIPPONI Quelli incredibili Madonna che paura Madonna che paura Pensavo fosse l'alleato mio Pensavo fosse quell'altro Scemo dell'alleato mio Mappe veramente dispersi Attacci No Perché non sono uscito per fire Non pensavo stavano indietro Basta che doppia che ne me ne ho fatto Baby Ma rannaio l'anguolo che paura Via via qua è chiuso Andiamo qua Chiudiamo la porta Bello sto fatto che poi chiude le porte Perché se entra Entra Ah t'ho ucciso Perché t'ho mezzo sentito camminare Infatti dico Boh Non lo so così Ma andavo a fare un po' di decena Oh Mortacci E siamo matti Ma no Però ragazzi Così dovete Ancorpo all'improvviso Qua sta Mentre Casessio Tom Ma io penso che sono alleati Ma porca miseria Ma si può giocare pure dentro le case Vaffanculo 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 Tre Va bene Va bene Va bene Va bene Dai giocherò Dai giocherò Vi schiappo le cosce Vi schiappo Hai capito E dai che personale Pronto Maronna mia Lo sapevo che uscivo Lo sapevo Ho sentito i passi Brutta merdosa Bello Guarda che kill Colpa alla testa pure Baby Ouch No lo sapevo Mi sono un attimo girato È sempre così Un attimo che ti giri Che poi cerco di stare concentrato Perché sento i passi Tramite cuffie Cioè cerco di sentire i passi Tramite cuffie What the fuck Mada faga Mada faga What che è successo Che è successo Che è successo Entra E sarai distrutto Senza mirare Ti spacco Ti faccio pure Perché Se non in ginocchia Gli sparo Cioè Io ho fatto l'operazione In ginocchia Vai a dormire Eh vabbè Quello Quello What the fuck Perché non muore Con sti cacchio di mirini Io non ce l'ho Una qua io Giustamente a tappa grappolo Io ti vado fuori Mortacci tua Oppure Lo sapevo che stava lì Lo sapevo Ok Lo sapevo Meno di un minuto Meno di un minuto Meno di un minuto Baby Vai 30 secondi 30 secondi Ok baby C'è l'elicottero Io non mi faccio ammazzare Non mi faccio ammazzare Dall'elicottero Stronzo Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Raga Guardalo Mamma mia Ci stavo a farlo Oddio 72 71 What the fuck Mamma mia Raga Abbiamo vinto L'abbiamo A buco de cuore Dai dai Comunque siamo saliti Di livello Così almeno possiamo iniziare A potenziare Il nostro Operatore Cavolo Sono arrivato secondo Però 14 kill Oh Raga Per aver fatto due partite Mi sento soddisfatto A una cifra Ok Livello 4 Ottimo così Almeno possiamo iniziare A potenziare Tutto quanto Signori Questo video è già da termine Spero ovviamente Vi sia piaciuto Mi raccomando Se è così anche per voi Un bel like Ragazzi Se vogliamo il ritorno Del grandissimo Deathmatch a schiaffi Mi raccomando Raga Se non sapete cos'è Basta cercare su youtube Deathmatch a schiaffi E ve fate due belle risate Ci vediamo Con un prossimo appuntamento Mi raccomando ragazzi Vi invito a lasciare ancora Un bel posto in su Commentare e condividete Cliccate qua FK a me ragazzi Per vedere altri due video Se è stata la volta Ancora dei listi Cliccate con c'è Giappare Schia canale Cliccate la campanella Per non perdere il suo video Noi ci vediamo Con un prossimo appuntamento Sempre questo è il mio canale Bella raga